A parte che ho una grande difficoltà, noi lavoriamo male insieme, lavoriamo male insieme perché domenico mi metti in soggezione, è sempre stato così, questa cosa negli anni non si è risolta, abbiamo fatto parecchi film insieme ma ancora, insomma su questo film non è interessante che ti nascondevi, che non potevi, vabbè io gli ho piantato di venire sul set quindi lui si nascondeva, si nascondeva sul set tuo, è vero, però